Ciao ragazzotti! Allora, tutto bene? Qui è il vostro caro Babbo Natale che vi parla e siamo qui per un nuovo ed entuservantissimo video di Natale su Christmas Shopper Simulator. Ho un piccolo gioco che mi aveva mandato a voi, maledetti dometti, e mi aveva detto Babbo, gioca a questo, perché figo e perché ovviamente io ho una barba mobile e quindi tende a cadere E niente, c'è questo cazzo di... c'è questo simpatico telefono che si vuole... maledetto telefono Comunque, comunque, se mi state chiedendo perché, io sono in un centro commerciale per un semplice motivo Da dove cazzo pensate che arrivi i nostri regali? Da centro commerciale, è ovvio, perché ormai tra articoli 18 che non... C'è l'accio! Babbo sta parlando! Comunque c'è tra articoli 18 che non ci sono più i shopperi in generale, i figli, i macisti, eccetera E i miei cazzo di idiomi non lavorano più E quindi io, il sottoscritto, lampada Non provare mai più a fare una cosa del genere Comunque, il sottoscritto deve abbassarsi direttamente a nuova E andare a comprare la roba in questi dadissimi supermercati Ovviamente, non sarò io controllo il mio avatar personale che è Gianni Che vedete che è un transformista, è pelato, è... capelli, pelato, capelli... Ok, in ogni caso, chi è che roba è? Oh mio Dio, Gianni, sei una mebba Lo zio Steve ama lo shampoo Compragliene un po' e portalo al grotto Lo zio... Oh, sei il pedofilo! Il caro zio Steve! Certo, certo, abbiamo preso anche in mente Il gioco è attivo Oh, eccolo qui Lo shampoo per lo zio Steve Sì, sì, grazie Gianni, prendi questa cosa Incartalo E corre Qui Dove c'è un ragazzo di cicciola che balla Prendi! Prendi! Cosa è sta roba? Oh mamma Generico Potremmo provarlo Oh Ok, il vaporatore si sente un po' stu... Oh! Vaporatore, sono stupefacente Ok, ho preso un altro achievement Ok, che cazzo non lo vuoi in questo giro? Cosa? Cosa? Lì siamo a guardare i documentari sulle formiche? Perché non gli compri un televisore più grande? Che cazzo sono la cazzo di Banca d'Italia? Bobbo! Perché? Non lo fabbrichi Oh beh, i miei nomi non ci sono Oh vabbè, allora prendi la tua masnetta Mastercard e compralo Che cazzo? Io risparmio una vita e poi devo venire qui In un centro commerciale a comprare la roba a voi Perché? Perché non avete dei genitori che vi compri il vostro televisore al plasma a 70 pollici? Io ho preso un peperone Lì si avrà un peperone quest'anno Incartami Donno, non mi fare incazzare Incartami questo tannato povero Oh Ok Gianni anche Ok, fateci un remixaggio o qualcosa Ok Signorina, cortesemente potrebbe incartarmi questo cazzo Oh, grazie Grazie signorina Per quest'anno non verrò a violentarti in camera tua dopo averti dato i sogni feri Come pensate che Babbo Natale riesca a intrufolarsi in casa vostra Senza che voi lo vediate o lo sentiate Vi droga la casa E Oh Sono Lampada Per favore fate largo Fate largo un po' abbracato Un tondo e trissimo televisore da portare all'isa Per fargli vedere delle malattissime documentari sulle forbiche Che cazzo è che si guarda i documentari? Che è quella maledetta bambina che si guarda i documentari sulle forbiche? Gianni cicciola Palla su questo Ok, ti distruggerò la tua maledetta casetta Sei contenta ora? Sì, sì, sì Continua ad essere contenta maledetta tossica, infame Ok, non volevo fare niente Solo una tastatina Oh, vedo che ti piace Anche io il solito metto faccio per rumore Ok, qualcuno ha lasciato un gioco a Shaffi Carradinton Trovalo Esci fuori E Scambialo per dei soldi extra Oh Ora ci capiamo Cara da mia Befana Maledetta Ora lei ha capito come Babbo Natale vuole Comprare i regali Lupandoli E poi dandogli ai bambini bisognosi Non è vero un cazzo Gli africani non porto mai una mazza Mi uccido da solo a volte Ecco qui Ecco qui il cazzo Jimmy 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 non fa Ok, bravo Jimmy Prendi questo Ok Ora Con calma Adio No Jimmy Jimmy maledetto Ok Ora con calma Via Via No Cazzo Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Yes Vai Vai Oh mio Dio Sì Vai qui Vai qui Dove devo andare Sotto Vai così Ma che Ok Vedo che non sono l'unico che si droga Ehi Tieni 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 Non so cosa sta succedendo Il braccio del mio avatar Ma va bene così Oh è quest'altro Ok Cazzo di folletto Di merda Perché lavori qui Invece di lavorare per me Tieni Dammi dei soldi Cos'è questo Dami Wow 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 Yes Buona Bambona Sotto Mada F*** Tieni Sotto Jenny vuole una bambola grande quanto a lei Perché è normale No non è normale È da pervertiti Jenny Eh ti piace fare le cosacce con la bambola dimensioni naturali eh Anche babbo natale si è anche babbo No, ovviamente no, Babbo Natale non farebbe mai cosa di questo genere, Babbo Natale prenderebbe direttamente dove le persone vive per fare questo genere di roba. Dite qualcosa a qualcuno e io vi strappo le palpebre con i denti. Guarda che cazzo di culo si deve fare Babbo Natale per prendere a Lisa la sua magliettissima bambola confiabile, dannazione Lisa, vai in porno shop come tutti. Ok, ora piano, ora piano, no, no, Jimmy, ora piano io giuro che ti faccio violentare da tutte e dodici le mie renne, oh quanto cazzo sono un'uneodea. Andiamo a portare questo dannatissimo regalo che, dato che sono Babbo Natale, pagherò col cazzo. Forza, forza, prendite sto regalo, succiola. E poi morì, ambozzato. Cazzo, sta barba di polistirolo, minchia che merda. Babbo Natale ha tutta la mia stima per portare la barba così dodici mesi all'anno. Che schifo. Ellie vorrebbe essere un panda. Non lo vogliamo tutti, no, sono i mongoloidi. Ora andiamo. Che cazzo è che vorrebbe essere, non so, un panda. Perché un panda, oh, ho ucciso una signora. Perché un panda, eh? Perché una persona sana di mente vorrebbe essere un panda? Perché non, un T-Rex? Un velociraptor? Che cazzo ne so, un... Un... Una mangusta con un pene di 50 centimetri. Ok, immagino che debba entrare qui, non è vero? Non è vero? Ok. Entra, Gemme. Vai dentro. Gemme. Gemme. Oh, no. Gemme. Oh, cazzarola. Ah, ci sono. E vabbè, dato che ci siamo. Ippiii. I believe I can fly in this sky. Oh, yeah. Mio Dio, come ballo sulla pista. Ah, va pure tale. I tempi erano... Oh, yeah. Se non fosse per questa cazzarola di barbacabba farà, oh, a me mi piace felosa. Quindi, poi, ma tengo... Ok. Fai niente. Ehm... Pe... Pe... Perchè? Perchè c'è un cazzo di gatto con un tank? Babbo Natale non lo voglio sapere. Babbo Natale, se ne fotte, prende i regali che ha preso per i poveri deficienti di questo guardiere. E se ne va. Anche a affettarci lo devo fare, ovviamente. Oh, quella mia barba mobile.